vi hallo a tutti raga benvenuti in un nuovo video sono il vostro Lely Colli come sempre siamo qui per un nuovo video parodia tutto per voi appena sfornato solo per voi ma prima di cominciare come sempre trovate tutti i link e descrizione nell'info box seguitemi su tutti i miei social mi raccomando di facebook twitter instagram musical.ly vi invito come sempre a lasciare un bel like e un pollice in su e come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto detto questo possiamo cominciare per una nuova avventura nuova parodia dove si presenta questo personaggio dove cerca qualcosa di particolare però lo scopriamo solo passo per volta siete pronti tutti seduti tutti pronti siamo pronti partiamo via si io sono enrico pasquale pratico abita a monte san giovanni ho 22 anni si chiama enrico pasquale pratico abita a monte san giovanni campano provincia di frosinone perché lo conoscono tutti quelle paese quindi nel lazio e ha 22 anni cosa cerca questo ragazzo chi lo sa andiamo a scoprirlo insieme ovviamente guardando i video ovviamente cosa vorrà perché ha fatto questo video scopriamolo insieme sono un ragazzo carino e quelli ragazzi che mi piacciono a me mi piacciono biondi capelli neri magri bellissimi sex certo a lui mi piacciono le donne con i capelli biondi more rosse magre sex bellissime sono tutte bellissime basta guardarle con il cuore non con gli occhi che sono tutte bellissime le ragazze spero lui mi sa che mi date un po in confusione perché cerca una ragazza con molti colori cioè colore arcobaleno nei capelli cioè mettiamoci conto anche quello perciò lui è così cerca la ragazza perfetta perciò ragazze se lo volete lui è libero è liberissimo che facete voi io sono a casa lavoro zappo a vigna e lui giustamente dice che lavora zappa la vigna quindi qualcosa in tasca di guadagno anche se poco in tasca anche se poco quindi l'ho sempre detto per lavorare bisogna guadagnare per per guadagnare bisogna lavorare se no lo stipendio non arriva e non si può andare avanti mantenere la casa e la famiglia soprattutto i figli quindi bisogna lavorare sempre cordate lavorando si può guadagnare qualcosa con lo stipendio e mantenere la famiglia anche se poco bisogna sempre accontentarsi ricordatevelo perché è molto importante sono un carino ragazzo trovate a me su prozap Enrico Pasquala pratico prozac questa cos'è nuova social il nuovo social network nuova app perché io non ho mai sentito parlare in questa prozac veramente mai sentito parlare in vita mia non sa lui cioè lui usa prozac dico Pasquala Pasquale pratico quindi lo usa quindi c'è esiste io non sapevo neanche che esisteva potemelo sapere poi nei commenti se sapevate che c'era prozac questa nuova app io non lo sapevo e voi fatemelo sapere mi raccomando nei commenti il mio numero lo do a giovane zaccuri così mi trovate voi e sopra fastbook Enrico Pasquale pratico con 2T ciao fastbook si è mangiato un po' di parole però non è andato male quindi ragazze mi raccomando fatevi due risposte due domande anzi fatevi due domande se il vostro tipo ideale per stare insieme per vivere la vostra vita con Enrico Pasquale pratico mi raccomando a voi le opinioni e la mia vita sono qua io mi raccomando per la session 3 ho il telefono samson galles grande neo e voi che facete ciao bene ragazzi il video è finito qua se vi è piaciuta questa presentazione di Enrico Pasquale pratico che vuole una ragazza bionda mora magra bellissima sex che lavora nella vigna zappando che lavora zappando la vigna che lascia il suo numero di cellulare su amica giovanni che lo potete trovare sia su prozac e su facebook fatemi sapere voi se il vostro tipo ideale questa persona qua mi raccomando fatemi sapere i vostri opinioni nei commenti qua sotto voi ragazze se lo amate già andate a trovare perché il signore tutto di pieno rispetto raccomando come sempre trovate tutti i link in descrizione al nipo box facebook twitter instagram music e lasciate un like un pollice in su e come sempre ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao e alla prossima ciao ciao ciao